Allora, il design del fitness è il wellness, perché wellness è fitness più design, nel senso che è sentirsi bene, è un'integrazione con l'ambiente, con l'arredo design, è un vero e proprio stile di vita. Il run personal è il primo tapirulano al mondo che si collega a internet, è possibile guadagnare tempo perché si può lavorare e camminare, si può fare ginnastica e leggere le proprie mail, andare su facebook e ottenere tutti i servizi online utili anche al proprio wellness.